In molti luoghi del nostro pianeta, uomini e donne hanno lasciato dietro di sé delle tracce misteriose. Questi sono geoglifi, disegni tracciati sulle colline o in pianura, opera di esseri umani. La maggior parte di questi disegni è stata cancellata dal tempo, ma alcuni di essi hanno attraversato la storia per arrivare fino a noi, ed è un miracolo che possiamo ancora ammirarli. Nessuno conosce il nome dei loro autori. Tutti i geoglifi sono circondati da misteri e leggende. Cosa ha spinto alcuni popoli a concepire queste enormi figure e a lasciare sul terreno un messaggio che avrebbe attraversato i millenni? Sappiamo che dei e dè erano molto importanti nel lontano passato. In realtà, realizzare le figure, tracciarle nel terreno, non è molto difficile. Però la progettazione su dimensioni così vaste è un lavoro impressionante. La civiltà Nazca è conosciuta soprattutto per le linee, ma non ha prodotto soltanto quelle. È un'immagine iconica, è unica, suscita grande interesse e ha dato origine a numerose leggende. È una figura enigmatica, non si sa che epoca risalga e non si sa neanche chi possa averla realizzata. Non possiamo dire con certezza perché siano state realizzate. Perciò rimangono a volte nel mistero. Andremo in Inghilterra, dove si trovano numerosi geoglifi. E ci recheremo anche in America del Sud, nel deserto di Atacama, dove vari popoli in periodi diversi della storia hanno lasciato sul terreno questi disegni misteriosi. Cominceremo con quelli più enigmatici, le linee di Nazca. Ogni anno migliaia di turisti percorrono questa strada che attraversa il deserto di Atacama, in Peru, per trovarsi faccia a faccia con uno dei più grandi misteri della storia dell'umanità. Tra tutti i geoglifi del mondo, le linee di Nazca sono sicuramente le più famose. Tuttavia, arrivati sul posto, ci si trova davanti solo una pianura desertica, sassi e polvere, assenza di vegetazione e nessuna traccia di tesori archeologici. Bisogna salire su una torre per intravedere un pezzettino del puzzle che ci aspetta. Sono visibili due figure, l'albero e la mano, e anche alcune grandi linee dritte che si estendono fino all'orizzonte. Ma per rendersi conto pienamente dell'importanza e della bellezza dei geoglifi di Nazca, bisogna volarci sopra. Poiché l'aereo è l'unico mezzo per vedere bene le linee, i voli sono molto richiesti. L'aeroporto di Nazca è diventato il secondo del Peru. In realtà è possibile vedere le linee di Nazca da delle piattaforme realzate, poi c'è una collina un po' più alta, dalle quali è possibile vederle, ma mi hanno detto che poterle vedere da un volo è sicuramente migliore, da una percezione più autentica della forma delle linee, insomma. Siamo venuti dalla Corea e adesso, dopo aver aspettato 45 minuti, potremo vedere le linee da un aereo. Ho visto tanti reportage e foto sulle linee, ci sono numerosi misteri circa la loro origine. Chi le ha fatte? Come le ha fatte? Visto che finora nessuno è mai riuscito a spiegare scientificamente cosa sono, cosa significano e perché le hanno fatte, personalmente siamo qui per cercare di capire un po' che cosa rappresentano queste linee. Ma una tempesta di sabbia si abbatte sulla città. Tutti i voli sono cancellati. Il nostro pilota, Eduardo Heranzi, offre quindi di portarci il più vicino possibile alle linee. Eduardo non è solo il pilota, è anche un appassionato delle linee di Nazca. A bordo del suo ultraleggero ne ha scoperte lui stesso a centinaia. Ci conduce al margine della città. E' qui che si trova il telar, il telaio per tessere. Uno dei rari geoglifi che è possibile vedere da vicino e che ci permette anche di capire come venivano tracciate queste linee. In realtà è molto facile. Si spostano le pietre ai lati e si spazza al centro. Il risultato che si ottiene è che lo strato sottostante, che contiene una quantità maggiore di argilla bianca, risalta rispetto alla superficie scura. È così che sono state create le linee. Non è complicato realizzarle. La maggior parte dei tracciati è realizzabile con strumenti semplici, come paletti e corde. Ma la precisione delle linee dimostra che la civiltà nasca conosceva bene la matematica. Molti, come Eduardo, sono convinti che i nasca avessero dei mezzi per alzarsi in volo e controllare il loro lavoro. Da terra non si distinguono molto bene. Quello che abbiamo qui davanti a noi si riesce a vedere in qualche modo, ma appare piuttosto in forme. Mentre quando con l'aereo ci voleremo sopra, vedremo quello che realmente questo popolo ha voluto trasmettere. Quindi, se mi chiedete se gli antichi erano in grado di volare oppure no, vi rispondo di sì. Penso che utilizzassero aquiloni, o meglio, degli alianti costruiti con canne, tela e piume. Un altro mistero delle linee di nasca è la loro incredibile longevità. Dopo 2000 anni sono ancora visibili e questo senza la benché minima manutenzione. La prima spiegazione è geografica. Le linee si trovano nel deserto più arido del pianeta, dove non piove quasi mai e dove la vegetazione è piuttosto scarsa. L'assenza di umidità fa sì che l'erosione sia molto debole, ma anche le tempeste di sabbia potrebbero giocare un loro ruolo. Portano via tutta la terra dalla superficie ed è come se spazzassero le linee. È per questo che dopo una di queste tempeste ci piace alzarci in volo, perché è possibile che il vento abbia pulito e reso visibili nuovi disegni. Evidentemente gli antichi conoscevano questo effetto del vento e lo sfruttavano come sistema di manutenzione per far sì che il tracciato delle linee rimanesse pulito. Il mattino seguente la tempesta di sabbia è terminata. All'aeroporto i voli lentamente riprendono. Dopo pochi minuti di volo, le grandi linee dritte sono le prime che scorgiamo. Sembrano estendersi per chilometri. Si notano anche dei disegni più piccoli, alcuni dei quali rappresentano degli animali. La scimmia, il ragno o il colibri sono solo alcuni tra le centinaia di geoglifiche si trovano nella pianura. Chiunque volando sopra le linee è assalito da queste domande. Chi le ha fatte? Perché? Com'è possibile che il tracciato sia così preciso, così dritto? E qual era il significato di questi simboli? Perché questa tradizione si è protratta per più di mille anni? E ognuno annasca alla sua spiegazione circa l'origine delle linee. Per alcuni fungevano da vie sacre dove avrebbero avuto luogo adunanze e sacrifici. Altri pensano che facessero parte di un culto di adorazione delle montagne. La spiegazione più stravagante è di uno scrittore che ha ipotizzato che servissero come pista di atterraggio per gli extraterrestri. Un'ipotesi rafforzata da questo misterioso disegno che si può interpretare come raffigurante un alieno o un uomo con la testa di gufo. Quello che vediamo qui è un modellino in scala della pianura. Questa è la zona turistica dove si effettuano tutti i voli. Ed è qui che troviamo la scimmia, il cane e il colibri. Ma questo rappresenta solamente il 10% dell'intero sito archeologico. Il punto è che ci troviamo di fronte a un documento o a un libro gigantesco. Per comprendere meglio le linee di Nazca possiamo provare a esplorare gli altri geoglifi del pianeta. Se le linee di Nazca sono i geoglifi più famosi, in realtà non sono gli unici. Si trovano anche in Inghilterra, dove si contano decine di quelle che vengono chiamate kill figures. L'uomo lungo di Wilmington avrebbe almeno 300 anni. Non si sa chi l'abbia fatto né per quale motivo. La figura era stata dimenticata, poi un bel giorno venne riscoperta. Fino al XIX secolo era sparita, ricoperta dalla vegetazione. Poi una donna che viveva da quelle parti dopo una nevicata notò che la neve sciogliendosi aveva fatto apparire l'immagine stilizzata di un uomo. E' solo perché la neve si scioglieva in modo leggermente diverso nei solchi che questa figura tornò a emergere. E' così che venne scoperta. Philip Cargham è un druido. Il suo interesse per il gigante è iniziato una ventina di anni fa, quando uno dei suoi amici è morto, ha intrapreso un pellegrinaggio a piedi, la cui metafinale era l'uomo lungo di Wilmington. Il motivo per cui si trovano queste figure in questa regione dell'Inghilterra è che lo strato superiore del terreno è molto sottile. C'è gesso bianco e poi un sottile strato di terra. Quindi è molto facile tagliare le zolle con una vanga e rimuoverle, in modo che si veda il gesso bianco. A un certo punto il gesso non si riusciva più a vedere. Così il tracciato venne rimpiazzato da blocchi di cemento dipinti di bianco. Malgrado questi restauri, l'uomo lungo è rimasto un luogo speciale per i druidi della regione. Il druidismo ritiene che tutta la terra sia sacra. Ci sono anche luoghi speciali che sembrano essere particolarmente sacri o molto importanti. E questo è uno di quei luoghi. Otto volte all'anno il nostro gruppo locale di druidi organizza una grande festa qui, in occasione dei solstizi, degli equinozi, eccetera. Se fossimo nel Wilshire, in un'altra parte dell'Inghilterra, ci riuniremmo in un cerchio di pietre. Qui, non avendo un cerchio di pietre, ci riuniamo laggiù. Numerose leggende circondano il gigante. È un amante seduto che piange la morte della sua amata. Un gigante colpito da una pietra lanciata da un suo simile. È difficile dire chi l'abbia fatto e perché. Ma al di là delle leggende che il disegno alimenta, Philip ritiene che la cosa principale sia l'emozione che è ancora oggi suscita nelle persone. È una figura umana e dal momento che è così stilizzata, in qualche modo simbolizza ogni uomo e ogni donna. Quindi, su questa immagine semplicissima, possiamo proiettare tutti i nostri sentimenti e pensieri sull'umanità e su cosa significhi essere umani. Credo che sia importante trovare dei luoghi dove poter andare quando si attraversa un momento difficile o magari si ha solo bisogno di stare un po' per conto proprio, lontano dalle ansie e dagli stress della vita. I geoglifi possono quindi svolgere ancora un ruolo spirituale per l'umanità. E in Cile c'è chi si batte per proteggere questo culto millenario. Sul Serro Unita, una figura lunga 86 metri contempla la pianura da secoli. Il gigante di Atacama sarebbe stato realizzato prima dell'arrivo degli spagnoli nel continente, tra il 1000 e il 1400. La figura sarebbe opera del popolo Aymara e rappresenterebbe un uomo puma. Il gigante di Atacama costituisce un luogo estremamente importante di comunicazione con il cosmo. È un punto dove si concentra l'energia positiva. Il gigante di Atacama non è l'unico geoglifo su questa collina. Vi si trovano anche dei cerchi misteriosi, un felino, delle linee e delle figure antropomorfe. Come Annasca, questi geoglifi sono stati disegnati semplicemente spostando delle pietre e si sono conservati nel tempo grazie al clima particolare del deserto. La civiltà Aymara, che ha creato tali figure, è un popolo di 22 milioni di persone sparse tra Cile, Perù, Bolivia e Argentina. La cultura degli Aymara mostra un profondo rispetto per la natura e in particolare per la madre terra, la Pachamama. Cavier Vilca oggi si batte per salvare e tramandare questa cultura. Sicuramente, tanto tempo fa, i nostri antenati in questo luogo celebravano dei rituali di offerta alla madre terra per invocare la pioggia, per chiedere l'abbondanza dei raccolti, per placare le tempeste di sabbia e per attenuare l'intensità e la frequenza dei terremoti. Doveva essere sicuramente così, perché la nostra cultura si esprime attraverso una visione olistica della realtà e attraverso una convivenza basata sull'armonia e sul rispetto della natura. Per secoli c'è stato libero accesso al gigante ed era possibile camminare sul tracciato. Ma il turismo e il comportamento irresponsabile di qualcuno hanno messo a repentaglio la sua conservazione. Da qualche anno ormai l'accesso è quindi proibito. Non si può salire sulla collina. Mi piacerebbe andare lassù e vedere cosa c'è. Da questa distanza si nota soltanto che lì c'è un disegno. Però vorrei poterlo osservare da vicino per definire chiaramente di cosa si tratta. In quel luogo dovrebbe esserci una sorta di altare dal quale si innalzavano le preghiere e dove si lasciavano le offerte. Comunque arriverà il momento in cui questo posto tornerà nuovamente di proprietà dei popoli indigeni che sono i veri eredi di quella cultura. Dopo l'arrivo degli spagnoli i vari regimi politici hanno cercato di distruggere la cultura aymara. Javier Vilca lotta quotidianamente per trasmetterla alle nuove generazioni. Ma è difficile farsi capire e preservare queste tradizioni. È tutta una visione del mondo che bisogna insegnare nuovamente ai più giovani. I nostri antenati, prima di andare a pesca, facevano le loro offerte alla dea del mare, la mamacocia. Lanciavano le reti, pescavano e tiravano su tanti pesci. E sapete perché? Perché avevano chiesto il permesso alla mamacocia, al mare, di prendere i pesci, ottenendo la sua benedizione. E arrivava subito la sua benedizione. Il mare è anche un'importante fonte di nutrimento, ci sfama. È qualcosa di estremamente meraviglioso. Ed è per questo che bisogna amarlo e proteggerlo. Perché il mare porta benefici a tutti noi. Cavier si rammarica che gli elementi che avrebbero permesso di decifrare i geoglifi siano andati per tutti col tempo. Ci porta sul sito del Serro Pintados, a poche centinaia di chilometri in linea d'aria ad Anasca. Qui l'intero fianco di una montagna è ricoperto di geoglifi. Da qui un tempo passava una strada molto importante che dall'alto piano portava fino al mare. Non sappiamo da quanto siano qui, ma sappiamo che questi disegni hanno diverse migliaia di anni. Ovviamente non siamo in grado di decifrarli con precisione perché i nostri saggi, gli amautas, non sono più con noi. Vennero sterminati tutti quando arrivarono i conquistadores. E tra tutti i disegni che abbiamo qui ce ne sono quattro che ancora oggi utilizziamo per decorare i nostri tessuti, come ad esempio il re dell'acqua, che è rappresentato dal rospo. E troviamo anche il simbolo del matrimonio, che sono due colombelle. E da qui si vede chiaramente che rappresentano l'uomo e la donna. Poi abbiamo il lama, che costituisce un elemento importante nella vita della società indigena Aymara. e ritroviamo anche la cosiddetta ciacana, che è un simbolo che riconosciamo e conserviamo ancora oggi. La ciacana, o croce andina, rappresenta ciò da cui bisogna trarre orientamento per vivere. I geoglifi hanno tutti un loro significato. I culti, tuttora ad essi dedicati, ci danno un'idea del legame che poteva unire in passato i geoglifi e coloro che li hanno disegnati. I culti legati alle linee di Nazca non dovevano essere molto diversi da quelli praticati ancora oggi in Inghilterra e in Cile. Ma quelle conoscenze con il tempo andarono perdute. Le linee di Nazca sono state riscoperte solo nel 1924, quando gli aerei hanno cominciato a sorvolare l'America del Sud. Tuttavia, dopo quasi cento anni di ricerche, il loro significato esatto rimane ancora un enigma. Le spiegazioni per il momento non sono altro che teorie e come le linee, anche queste teorie sono numerose. È stata una donna, Maria Raiche, che ha cominciato a studiare i geoglifi in maniera scientifica. Negli anni 40, questa appassionata consacrò tutta la sua vita a studiare e proteggere il sito. Senza il suo lavoro e la sua ostinazione, probabilmente le linee sarebbero state distrutte. Dopo tanti anni di studi, Maria Raiche alla fine avanzò una teoria. Le linee sarebbero una sorta di calendario astronomico e il loro orientamento sarebbe legato alle stelle. Maria Raiche scopre infatti che diverse linee indicavano il solstizio, come quelle che attraversano il disegno del ragno. Le linee di Nazca sono dunque un immenso calendario disegnato sul terreno. A qualche centinaio di chilometri da lì, sulla costa del Pacifico, un altro geoglifo potrebbe forse aiutarci a chiarire il mistero delle linee di Nazca. Il candelabro di Paracas si trova adesso nel cuore di un parco nazionale. È impossibile accedervi via terra, bisogna arrivarci in barca, come fanno ogni anno migliaia di turisti. Juan Carlos Seaton, il direttore della riserva, ci accompagna a vedere il famoso candelabro. Qui sono venuti molti ricercatori. Tra di essi c'era anche la famosa scienziata tedesco-peruviana Maria Raiche, che diede inizio allo studio matematico e astronomico delle figure e delle linee di Nazca. Nelle sue ricerche le ha sempre messe in relazione con i simboli di un calendario astronomico utilizzato dalle popolazioni che abitavano in questi posti. Questo geoglifo, in tal senso, sarebbe legato anch'esso alla civiltà Nazca e alla sua cultura. Questa figura presenta infatti molte somiglianze con i disegni astronomici delle linee di Nazca, cosa che hanno confermato anche altri scienziati. Il candelabro, in effetti, ha tutte le caratteristiche di una bussola. Questa potrebbe essere la croce del sud vista di giorno. È orientata nella stessa direzione. La punta del candelabro indica il sud, mentre la base indica il nord. Ed è posizionato in modo esattamente uguale, secondo gli studi di Maria Raiche, alla croce del sud. Quindi poteva essere un punto di riferimento per i naviganti durante il giorno. Pertanto si può dire che questa figura funzionava un po' come un sistema di segnalazione. Questo semplice tracciato nella sabbia effettivamente è visibile dal mare da una distanza di 20 chilometri. Ma è impossibile sapere se sia stato disegnato da navigatori dell'antichità o da pirati del XVII secolo. Non siamo in grado di datarlo con precisione. In base ai dati raccolti dagli scienziati, infatti, possiamo dire che potrebbe avere 10.000 anni, così come si può ipotizzare che risalga solamente a 500 anni fa. Comunque sappiamo che anche gli antenati dei peruviani erano navigatori. Le civiltà preincaiche e gli inca erano ottimi navigatori. Tutta la costa del territorio peruviano e sudamericano era stata circonnavigata dagli antichi peruviani. La maggior parte delle linee in realtà non punta verso alcuna stella o costellazione, ma siccome i geogliffi di solito sono visibili da grande distanza, spesso è stato attribuito loro il ruolo di cartelli indicatori e non solo nel deserto. I geogliffi inglesi rappresentano soprattutto cavalli bianchi. Se ne contano più di una quindicina in tutto il paese. Tra di essi, il più antico è il cavallo bianco di Huffington. È sicuramente il primo di questa lunga tradizione, databile tra il 1400 e il 600 a.C., verso la fine dell'età del bronzo. Questo geoglifo è circondato da numerosi misteri e circolano diverse teorie riguardo al suo significato. Harriet Vered è una storica. Conosce bene il cavallo bianco di Huffington e secondo lei era soprattutto un punto di riferimento geografico. Parliamo di un popolo che non conosceva la scrittura e non aveva mappe, né GPS, né strumenti di navigazione. Questa è la valle del cavallo bianco e ovviamente da là sotto si ha una visione migliore del cavallo nella sua interezza, perché in realtà non era pensato per essere visto da vicino. In effetti, il cavallo è visibile da tutta la vallata, a dimensioni impressionanti, più di 100 metri per 35. E il gesso bianco risalta, rendendo possibile distinguere la figura da lontano. Ogni tanto, diciamo all'incirca ogni 15 chilometri, che corrispondono a un giorno di cammino se ti sposti con delle greggi, vorresti trovare degli incroci con cartelli che indichino che lì si possa stare e riposare, probabilmente anche a pagamento. E questo era comunque un posto riparato dove persone e animali potevano trascorrere la notte. Quindi il cavallo bianco doveva essere una sorta di cartello indicatore. Il cavallo Il cavallo è un punto di riferimento talmente efficace che durante la Seconda Guerra Mondiale bisogna ricoprirlo con dei teli. Era troppo riconoscibile per l'aviazione nemica. E c'è una seconda ipotesi riguardo a cosa rappresenti. In realtà probabilmente non è un cavallo, probabilmente è un drago. Non lo chiamavano Ecus, lo chiamavano Draconis, che significa drago. E sappiamo che, anche nelle mappe nautiche, il drago era un simbolo molto importante. Ed è il motivo per cui riteniamo che rappresenti un drago più che un cavallo. Andrew Foley è il custode del sito. Conosce bene la leggenda e cosa ne è stato del drago con l'avvento del cristianesimo. San Giorgio e il drago lottarono laggiù. Giorgio vinse, uccise il drago, il suo sangue schizzò fuori ed era così velenoso che bruciò l'erba là sotto. Per questo c'è quel segno. Lì non cresce nulla a causa del sangue del drago. Chiaro? Sia che il geoglifo rappresenti un cavallo che un drago, colpisce per il suo disegno estremamente raffinato e moderno. Il cavallo è, come si dice, molto stilizzato. È lungo 110 metri e sembra che stia correndo sopra queste alte colline che abbiamo qui intorno. Il disegno è stato fatto nell'età del bronzo o del ferro, intorno all'800 a.C., quindi tanto tempo fa. Gli uomini all'epoca avevano un talento artistico, avevano il senso dello stile, perciò erano in grado di disegnare cose meravigliose come questa e di realizzare anelli e monili stupendi. Erano ottimi artigiani, ma erano anche dei barbari. Infatti ai piedi delle colline dietro di noi abbiamo trovato scheletri con braccia, gambe e teste tagliate, quindi potevano essere straordinari artisti, ma anche crudeli. I geoglifi sono misteriosi e hanno dato origine a molte leggende. Ma è sempre difficile trovare la verità tra tante teorie contrastanti. Se alcuni, pare, siano stati punti di riferimento per i viaggiatori del passato, questa spiegazione non si adatta alle linee di Nazca, che sono difficilmente visibili da terra. Gli archeologi, per contro, si sono interessati al rapporto particolare che la civiltà Nazca aveva con l'acqua. Una delle teorie avanzate collega infatti le linee con l'irrigazione. Alex Wamami-Kruses, del Ministero della Cultura, ci accompagna a visitare gli acquedotti di Kantaioq. Gli antichi Nazca erano dei grandi ingegneri idraulici e costruirono dei canali di irrigazione. Uno di questi è l'acquedotto di Kantaioq, le cui acque sono state utilizzate fino ai nostri giorni. La civiltà Nazca viveva in pieno deserto. L'equilibrio con la natura era precario e la disponibilità d'acqua era una preoccupazione quotidiana. La siccità e le variazioni climatiche provocavano catastrofi e carestie. I Nazca fecero di tutto per non dipendere troppo dalle rare precipitazioni. Costruirono in particolare complessi sistemi di irrigazione. Poter gestire l'irrigazione ha permesso alla civiltà Nazca di sviluppare l'agricoltura e di avere una crescita demografica impressionante per un ambiente desertico. grazie a questo migliaia di persone vivevano intorno alla città. I loro pozzi, ancora visibili, sono delle costruzioni strabilianti tanto per la forma che per il loro funzionamento. I pozzi hanno una forma a spirale per facilitare l'accesso. Da qui si scende per effettuare la manutenzione periodica. Gli abitanti della zona devono pulire i condotti per mantenere l'acqua limpida e togliere i sassi che cadono, ad esempio, quando si verificano dei terremoti. A volte, in seguito alle scosse, capita persino che intere parti crollino. La forma a spirale non solo facilita la manutenzione di questi condotti sotterranei, ma garantisce anche l'accesso di più persone simultaneamente. Per i sostenitori della teoria dell'acqua, alcuni tracciati sulla pianura seguono delle reti idriche sotterranee. Altri indicano l'ubicazione delle falde. Su queste linee si svolgevano delle cerimonie per invocare la pioggia e si deponevano le offerte per ottenere un clima più favorevole. ma ancora una volta, un nuovo studio dimostra che la maggior parte dei disegni e dei tracciati non è legata all'acqua. Benché l'acqua fosse vitale nella cultura nasca, non è stata la ragione principale che ha spinto a creare le linee. Cercare di spiegare i geoglifi è incredibilmente complesso. I tracciati sono rimasti, ma non la memoria dei loro creatori. In mancanza di dati archeologici affidabili è difficile risolvere il loro mistero. Il piccolo paese Il paesino di Sir Nabas in Inghilterra vanta anch'esso un geoglifo inciso nel gesso. Un gigante di 55 metri per 50 che rappresenta un uomo nudo armato di clava. Per fare chiarezza sulle diverse teorie qui è stato testato un metodo originale. Per tanto tempo si è pensato che questa figura risalisse alla preistoria, ma 30 anni fa ci si è resi conto che non c'era alcuna menzione della sua esistenza prima dell'anno 1694. Il primo riferimento al gigante di CERN si trova nel resoconto dell'aiutante del vicario del 1694 che è stato scoperto da Vivian Vail qui a CERN Abbas per riparare il gigante Trescellini. Questa assenza di documenti storici destò la curiosità di Catherine Barker. All'epoca la studiosa lavorava all'università di Bournemouth e decise di organizzare un processo pubblico nel quale i vari specialisti potevano difendere la loro tesi circa le origini del gigante. Due grandi ipotesi si affermarono. La figura sembra preistorica perciò potrebbe appartenere al periodo dei druidi in epoca preromana e raffigurare un antico dio guerriero celtico che brandisce la sua clava. Tuttavia è stato ipotizzato da un paio di autorevoli studiosi che in realtà fosse stato disegnato su ordine di Denzel Holtz proprietario del terreno tra il 1640 e il 1660 durante la guerra civile inglese. Denzel Holtz all'inizio era stato un simpatizzante di Oliver Cromwell che guidò la rivoluzione contro il re. Ma poi dopo aver assistito ai massacri all'odio e alla devastazione cambiò fronte e decise di schierarsi a favore del re. Quando finalmente tornò a casa nel 1654 ordinò di disegnare sul pendio della collina questa figura satirica di Oliver Cromwell perché Cromwell era rappresentato dai suoi sostenitori sotto forma del dio pagano Ercole il dio dalla grande forza. Quindi si tratterebbe di una caricatura politica. Al termine dei dibattiti gli abitanti poterono votare la loro tesi preferita chiudendo così la partita tra le due ipotesi. Se alcuni continuano a pensare che questo gigante sia lì da diversi millenni la teoria di un gigantesco disegno satirico più recente è apparsa credibile a tante persone ma in Inghilterra questo geoglifo è stato tramandato alla posterità per altri motivi e ciò ha sicuramente a che fare con le dimensioni abbondanti di una certa parte della sua anatomia. Beh il gigante ovviamente è un'immagine potente di fertilità maschile di forza maschile di virilità credo sia la parola giusta e pertanto è comprensibile che a volte le coppiette e le donne che hanno difficoltà a concepire vengano a passare del tempo con il gigante chissà potrebbero trarne giovamento il gigante di Sir Nabas è un'immagine potente che molti pubblicitari non esitano a sfruttare per promuovere il loro marchio ce ne sono di spassose ecco qui ce n'è un'altra la figura è utilizzata spesso nelle cartoline si dice che sia l'unico materiale pornografico accettato dall'ufficio postale e dall'ente per il turismo si è usata spesso in contesti simili il gigante è dunque un geoglifo dai tanti volti disegno satirico e politico e mascotte pubblicitaria è possibile che le linee di Nazca avessero anch'esse diverse funzioni per gli abitanti della regione negli anni 90 un'importante scoperta ha rimescolato le carte e aperto nuove prospettive la cittadella di Kawaji quello che si vede oggi non è che una minuscola parte di un complesso immenso soledad stasera di Kawaji di Kawaji di Kawaji sono cominciati nel 1982 tutta quest'area era completamente sepolta attualmente si presume che sia stato riportato alla luce solamente il 5% della totalità di quello che dovrebbe essere il complesso archeologico di Kawaji quindi in effetti c'è ancora tanto da scoprire e da scavare in mancanza di fondi gli scavi procedono a rilento però si è già potuta stabilire la sua funzione Kawaji non è una cittadella come si era pensato al momento della sua scoperta era un centro religioso che ai suoi tempi aveva un'enorme importanza si estendeva per 24 chilometri quadrati e ogni anno accoglieva migliaia di pellegrini all'epoca era l'equivalente della Mecca o del Vaticano in pratica i geoglifi si trovano proprio qui davanti quindi dalla parte dove erano ubicati i centri cerimoniali più importanti erano presenti dei geoglifi ma anche nella parte posteriore di Kawaji abbiamo trovato una varietà di linee e figure trapezoidali quindi i geoglifi sono in stretta relazione con Kawaji pertanto le stesse persone che hanno costruito gli edifici di Kawaji potrebbero anche aver realizzato i geoglifi nella zona circostante che all'epoca ancora non esistevano ciò spiegherebbe ad esempio il perché delle dimensioni dei geoglifi giustamente pensavano che i loro dei dovessero poter vedere questo tipo di figure erano offerte per gli dei fatte perché potessero ammirarle perciò sì esiste una relazione con i geoglifi i pellegrini i pellegrini venivano da molto lontano e migliaia di persone vivevano sul posto per accoglierli la chiave per capire le linee sembra dunque essere una maggiore conoscenza di questa civiltà nel suo insieme e i Nazca non ci hanno lasciato solo dei geoglifi le linee sarebbero solo uno dei tanti mezzi di espressione di questa civiltà Giuseppe Orefici è uno dei principali archeologi della regione la civiltà Nazca stando a quello che vediamo è una civiltà che desta particolare interesse perché aveva tanti mezzi di espressione molto diversi che vanno dai geoglifi fino alla alla ceramica e tutti questi vari mezzi di espressione ci mostrano la genialità di questa grande civiltà che per quasi mille anni si è basata su una teocrazia e ha dominato un territorio molto esteso la civiltà Nazca era estremamente avanzata non solo nell'idraulica ma anche nell'edilizia nella matematica nella musica nell'agricoltura e nella lavorazione della ceramica i temi iconografici che troviamo nelle linee di Nazca indicano anche che avevano una notevole capacità di riproduzione su grande scala perché disegni piccoli così venivano riprodotti in quelle macroincisioni gli stessi motivi decorativi delle ceramiche li troviamo riprodotti anche nei geoglifi con una cultura così ricca e varia la diversità e la precisione dei disegni di Nazca sembrano dunque meno stupefacenti malgrado tutte queste scoperte però le linee di Nazca conservano gran parte del loro mistero e bisogna accettare che forse per alcune di esse non verrà mai risolto sicuramente negli anni a venire si scopriranno nuovi geoglifi nascosti soprattutto grazie alla crescente precisione delle immagini satellitari e così continueranno ad alimentare leggende e storie sulla loro origine soprannaturale ma i geoglifi ci pongono un ultimo enigma cosa dobbiamo farne oggi? a Nazca alcuni siti sono protetti tuttavia i disegni sono talmente numerosi e distribuiti su una superficie così vasta che alcuni non sono ancora stati catalogati e in Cile sui fianchi del serro Pintados ci si può rendere conto dell'estrema vulnerabilità dei geoglifi questo immenso affresco è pieno di buchi è l'effetto delle prospezioni minerarie effettuate per cercare giacimenti di Salnitro alla fine del XIX secolo qui vediamo i resti dei geoglifi che sono stati deteriorati distruggendo questi simboli perché la gente all'epoca dello sfruttamento delle miniere di Salnitro non aveva la più pallida idea del valore rappresentato da questo gigantesco messaggio le chiamarono le chiamarono serro Pintados le montagne dipinte ma in realtà non sono dipinte e di sicuro il loro nome originale doveva essere un altro ma dato che non lo sapevano le chiamarono così ciò dimostra quanto ignorassero il valore di questi geoglifi che erano molto importanti per fortuna oggi l'intenzione è quella di proteggerli nell'ipotesi molto concreta che siano stati dei luoghi cerimoniali bisogna restituire loro quel valore perciò quando finalmente questi luoghi sacri ci verranno restituiti ristabiliremo la grande armonia con la natura che esisteva un tempo tuttavia proteggerli non basta numerosi geoglifi rischiano di sparire se non saranno restaurati sullo stesso sito dei Nazca una civiltà ancora più antica i Paracas aveva cominciato a creare dei geoglifi queste figure sono praticamente sparite ed è molto difficile vederle perciò è stata avviata una campagna di restauro Johnny Isla direttore del servizio archeologico viene con la sua squadra per restaurare i preziosi disegni innanzitutto quello che faremo è scattare delle fotografie dopodiché visto che queste pile di pietre non erano qui in origine dovremo toglierle questo è ciò che faremo in pratica ok nel sito nel sito di palpa abbiamo identificato quasi 80 gruppi di figure di questo tipo stavano tutte sparendo perché erano state realizzate sulle pendici delle montagne dove c'è una forte erosione dovuta alla pioggia al passaggio delle persone ai movimenti tellurici e anche alla polvere e al vento tutto ciò li stava cancellando e noi abbiamo identificato diversi gruppi come questo qui che sono stati restaurati dimettendo le pietre al loro posto e rendendo più visibile la figura in pratica quello che facciamo è recuperare le pietre che sono cadute all'interno delle figure e metterle ai lati in modo che il geoglifo riprende il suo contorno originale e possa così essere visibile da lontano questa è una tecnica che si utilizza in architettura però con i geoglifi è la prima volta che la utilizziamo per riportarli al loro stato originario a volte è sufficiente togliere con un pennello la terra che si accumula sulle pietre e non serve altro in altri casi quando si deve fare un restauro integrale si usa anche l'acqua molto nebulizzata per pulire via la polvere in modo che le pietre possano essere più visibili questo è tutto è una tecnica abbastanza semplice ma che porta via molto tempo non li puliamo troppo né troppo poco cerchiamo di pulirli quel tanto che permetta di renderli visibili ma senza alterarli la manutenzione e il restauro fanno parte della quotidianità anche riguardo al cavallo bianco di Huffington più di 250.000 persone vengono ogni anno da tutto il mondo per visitare il sito e praticano strani riti di ogni genere ispirati alle leggende bene dicono che se ti metti nell'occhio del cavallo e giri in tondo tre volte ti porterà fortuna ma se vi vedo vi rimprovero non va bene l'erosione è uno dei nostri problemi più grandi tutto questo è dovuto al fatto che le persone ci camminano non possono calpestare il cavallo perciò camminano qui e se moltiplicate questo per migliaia di passi allora si creano dei segni come questo o come quello qui è dove la gente passa ogni volta questa è una pedata vedete? ed è questo il problema però mi tiene impegnato ci sono sempre lavori da fare qui ok? ma il sito non chiuderà le autorità pubbliche si augurano che la gente possa continuare a visitare il cavallo e conoscere la sua storia il geoglifo va quindi restaurato ogni anno per due giorni 400 persone fanno a turno per rinnovare gli strati superficiali di gesso è così che restauriamo il cavallo in migliaia di anni il metodo non è cambiato è esattamente lo stesso questa è la nostra tecnica volendo potremmo cambiare oggi gli operai che fanno le strade usano i martelli pneumatici si potrebbero usare qui ma non è lo stesso non è la nostra storia vogliamo farlo vogliamo mantenere viva la tradizione è tutto qui il punto questa è la nostra eredità l'eredità dell'Inghilterra perciò vogliamo preservarla e usare le persone non le macchine il cavallo bianco di Huffington viene restaurato così di generazione in generazione da più di 3000 anni altrove nel paese altri geoglifi sono andati perduti dimenticati dalla storia per mancanza di manutenzione e ricoperti dalla vegetazione oggi le hill figures inglesi sono curate per la maggior parte dalle istituzioni o da associazioni di abitanti e se ne continuano a creare di nuove mantenendo viva la tradizione l'ultima risale al 2006 ed è vicina all'ingresso del tunnel sotto la manica nel 1990 Catherine Barker si era lanciata in un progetto simile con i suoi studenti nei mesi che seguirono il processo ho pensato che sarebbe stata una cosa interessante da fare condurre un esercizio di archeologia sperimentale e creare con un nastro una gigantessa sul fianco della collina lei è simile è della stessa altezza è più snella è quasi una versione speculare di lui ma ovviamente senza la stessa dotazione del maschio cosa che la rende riconoscibile come donna per rispettare le proporzioni e guidare il disegno Catherine e la sua squadra hanno utilizzato una griglia aver creato un geoglifo è stata un'esperienza intensa che ha permesso di calarsi nei panni dei creatori dell'opera originale e di capire meglio il gigante come abbiamo scoperto con la gigantessa non è difficile tracciare i geoglifi non è molto complicato come esercizio non ci abbiamo messo molto a farlo perciò sono sicura che il creatore chiunque gli fosse avrà visto il risultato finale del suo lavoro e l'avrà visto anche chi lo ha aiutato a realizzare quella figura disegnare disegnare e realizzare dei geoglifi resta una tradizione molto viva e benché oggi siano gli artisti che praticano la land art ad avvicinarsi di più al lavoro dei nostri antenati noi creiamo ovunque sul pianeta dei geoglifi a volte persino senza saperlo qui è la pianta scacchiera delle vie di una città fantasma degli Stati Uniti là ha un tracciato per tarare i satelliti nel deserto del Gobi in Cina i geoglifi possono sembrare delle mere curiosità storiche ma sono anche le ultime e uniche vestigia di alcune civiltà e se quelli che stiamo creando oggi attraversassero la storia che cosa racconteranno di noi a quelli che li studieranno tra migliaia di anni saranno queste le uniche tracce che lasceremo dietro di noi se scompariremo e che la uniche Grazie a tutti.